A Capone Bung de Bang da sabato prossimo è stato affidato il compito di chiudere la mega rassegna musicale del teatro Trianon con il concerto intitolato Eco Music Live. Il gruppo che si definisce Impatto Zero è costituito da Maurizio Capone, voce, scopenettiche e percussaglie, Francesco Frenchi Capriello, tastiere giocattolo, Salvatore Maestro Zanella alla Boatteria, Alessandro Mister Parada e Sparadiso, Basso da Ponte e Diego Zello Leone alla Mazzarra. Al concerto un tour ecologico all'insegna del concetto che la musica, nelle immagini dell'ultima clip del gruppo e di tutti e può essere fatta con poco, partecipe il rapper Luca Riello. Domani sarà invece la volta di Enzo Cragnaniello che presenterà Malavista Social Tour, un concerto che come filo conduttore l'ultimo disco radice, che racchiude appieno la sua musica e la Napoli che lui rappresenta, vive e respira ogni giorno. Quella città che l'artista non ha mai abbandonato e nel cui cuore pulsante i quartieri spagnoli continuano orgogliosamente a vivere e a creare. Lo accompagnano Piero Gallo al mandolino, Francesco Del Prete alla batteria e Francesco Iadi Cicco al basso, con la partecipazione di Riasmo Petringa, Oude e Violoncello. Il programma si compone sia di brani classici, quale passione scetate, che di canzoni scritte dallo stesso cantautore.